Musica Nella notte è stato assaltato il postamat dell'ufficio postale di via Rivarola a Mappano. I malviventi hanno probabilmente utilizzato dell'acetilene e hanno fatto esplodere la cassaforte, dopodiché sono fuggiti. Ingenti i danni anche ad un'abitazione adecente, mentre il bottino è ancora da quantificare. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito l'esplosione. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, ma i malviventi erano già lontano. Poste italiane dichiara che non sa quando il servizio verrà ripristinato. Indagini in corso. Grazie. 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 Autore dei sovrapposti